Allora ragazzi, io chiedo un aiuto, io devo andare a salvare questa dottoressa qui, che è la dottoressa Young, e poi devo andare a salvare il dottor Collerman e questo dottore qui, e non riesco a capire dove cazzo devo andare, non riesco a capirlo, è mezz'ora che sto girando e non riesco a capire dove cazzo devo andare, ok? Io vi faccio vedere, è incredibile, eppure c'è un corridoio superiore da dover fare, che però, non lo so io, questa porta qui è bloccata, quindi di qua non si passa, se mi potete aiutare, qua veramente non ci sto capendo più niente, è mezz'ora che sono qui, vedete di qui non si può passare, perché qui è bloccato, non ho idea ragazzi, io non so se c'è un muro da rompere, ma non credo perché i muri da rompere sono ben visibili, qui sono le tracce di tabacco ma non mi portano da nessuna parte, c'è un corridoio superiore da dover fare, ma non lo trovo, e non lo trovo, e qui finiscono le tracce di tabacco, come potete vedere iniziano di qua, poi, non lo so, quindi togliamo questo, tanto non ci serve, corridoi superiori o no? ahhh, aspetta, ahhh, porca puttana, vedi che c'è questo da far saltare, oh oh oh, e come facciamo a farlo saltare quello lì? e questo è un problema, e questo è un problema, no ragazzi c'è qualcosa che non va, io non riesco a capire come fare ad andare in questo corridoio superiore che mi porti, perché anche se metto la pistola o questo, no? questo non gli fa niente, cioè, vedete che non gli fa niente, è una pistola anche, no? io la metto però, come faccio a far saltare in aria questo muro? incredibile, è un enigma questo, da scoprire, io vi faccio vedere se qualcuno mi può aiutare, perché ho la china già giocato, è veramente, non lo so, qui sotto non c'entra nulla, sono sicuro che non c'entra nulla, e qua? cos'è sta roba? non è che è di qua, no no, ma non è di qua, non riesco a capire dove devo andare ragazzi, è un casino, è un gran casino credetemi eh, non vi crediate che sia facile? perché non è così, non lo so, non so dove devo andare, eh, è dura, è tosta, perché vedi, di qui non passi, di là non passi, è un bordello, è un bordello, la mappa è fatta male, comunque la mappa è fatta male, mi dispiace dirlo, ma la mappa veramente fa schifo, eh, qui siamo sopra, ok? boh, non capisco dove, non capisco dove si deve passare, non, è veramente, è un mistero, eh, credetemi, è un mistero, è un mistero, perché io anche se vado di qua, di qua non combino niente, sapete? è un casino, è tutto, boh, di qua c'è due vie che però non servono a niente, perché vedete una sale, vedete una sale, no? e l'altra scende, se io prendo questa, guardate, non fa nulla, l'ingresso di manutenzione qui, ok? se io vado sopra, allora così, fa questo pezzo qui, e questo pezzo qui, eh, non c'entra un bel niente, perché tanto arriviamo sotto, e ritorniamo poi giù, andiamo di lì, ma non facciamo nulla, non si fa nulla, non capisco dove do andare, non riesco a capirlo, io vi metto il video sul canale, se qualcuno riesce a capire cosa devo fare qui, ho già già giocato, ma senza mandarmi video, che tanto non si può spoilerare sto gioco, perché non si può spoilerare, qui ti fa andare su però, oh, vai, vediamo, ecco, una volta che salgo qua, mi sai dire cosa su cosa devo fare qua, cosa devo fare qua, non riesco veramente, ma credetemi, è un gran casino, è davvero, boh, sono passato di qua, ma siamo sempre lì, sì sì, tu la apri questa porta, ma non cambia niente, non cambia niente, no, 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 non ti fa cambiare niente, aspetta, vediamo, a meno che, arca al novest, ah, siamo arrivati nell'arca al novest, senza volerlo, se qualcuno mi sa dire cosa devo fare, qui è dove abbiamo distrutto il muro, ma è, buh, siamo praticamente, siamo usciti fuori, ma non è dove dobbiamo andare noi, perché noi dobbiamo andare da questa partita, è un casino, è un casino, non ci capisco più niente, io mi fermo qua, ve lo dico, mi fermo qua, perché non ho voglia di impazzire, non mandatemi video da guardare come si spoiler, eccetera, perché tanto non, il problema è che bisogna entrare qui, bisogna stare dentro, io davvero non riesco a capire dove andare, sono sincero, non ci rinuncio, ci rinuncio, ci rinuncio, sono fermo qui da stamattina, non, perché io anche se rientro qua dentro, cosa succede? Niente, perché è pure qua dentro che bisogna stare, è qua dentro che bisogna andare, non capisco il perché, non lo so, perché se io esco fuori, quei punti, questi punti qui dove devo andare io, non mi li da, però se io poi salto giù di lì, riesco a arrivarci? No, perché non li vedo quei punti lì da fuori, non riesco, ragazzi, se qualcuno mi può aiutare, devo andare a salvare questa dottoressa qui, poi devo salvare questo, e poi devo salvare questo, va bene, grazie a tutti. Grazie.